Tra incertezze e preoccupazioni si è arrivati al famoso 4 maggio. Dopo circa due mesi passati a seguire restrizioni per il bene della salute pubblica e propria, i cittadini possono tornare a riassaporare un piccolo assaggio di libertà grazie alla linea scelta dal governatore De Luca che per una volta ha puntato sulla fiducia nei cittadini e non sul pugno duro. Le limitazioni sono ancora presenti, non è un via libera, i dispositivi di sicurezza sono obbligatori, così come l'autocertificazione e fra paure di un nuovo esodo dal nord e dubbi sul futuro economico del paese, i cittadini dovranno usare il buonsenso. Da oggi i runner dalle 6 alle 8 e 30 hanno potuto correre, le passeggiate non saranno più limitate a sotto casa e con fasce orarie e si potrà tornare a vedere persone con cui abbiamo legami affettivi, da cui il virus ci ha separato per mesi. Oggi, 4 maggio, riparte anche una fetta dell'economia del bel paese, nonostante i mille dubbi. Bar, ristorante e simili stanno già operando nuovamente grazie alla consegna a domicilio e soprattutto all'asporto per cui si è tanto protestato e che è stato deliberato all'ultimo momento. A riaprire i battenti sono anche l'edilizia, la manifattura e l'ingrosso legato a esse, ma questa ripartenza purtroppo non vale per tutti. Il virus ha fatto tante vittime fisicamente, ma economicamente non è stato da meno. Tanti non hanno scelto di riaprire, tanti non apriranno mai più, svariate attività hanno deposto le armi e chi ci ha rimesso tutto attende un intervento decisivo dal governo. Il nostro paese è stato colpito con un fendente preciso e affilato, ma gli italiani hanno sempre saputo rialzarsi e oggi una nuova luce di speranza potrà tornare a illuminare il nostro futuro, restando sempre vigili perché il nemico non è ancora sconfitto.